ciao a tutti oggi vi voglio far vedere come poter utilizzare le bacchettine di legno quelle che si utilizzano per mangiare sia cinese che giapponese non ho realizzato un vero tutorial cioè non vedrete vari passaggi ma alcune foto perché diciamo che la realizzazione è molto semplice come prima cosa ho preso la mia bacchettina e l'ho tagliata in quattro pezzettini da 4 3 2 e 1 centimetro ho poi fatto con un trapanino con la punta diciamo sottile un piccolo foro ho colorato le varie bacchettine con degli smalti una volta asciutti ho messo i vari pezzettini li ho inseriti all'interno di questo spillo con asola e ho poi applicato la mia monachella ed ecco il risultato finale questi sono gli orecchini che ho realizzato con questa tecnica io li trovo molto simpatici e originale vi metto sicuramente la foto del risultato come al solito e spero che il progetto vi possa essere sia di ispirazione che utile ci vediamo al prossimo video ciao ciao